La giornata nazionale di raccolta del farmaco giunge alla sua 27esima edizione, un'iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus per rispondere ai bisogni delle persone che non possono permettersi di comprare i farmaci per curarsi. Ogni anno in ogni farmacia che aderisce all'iniziativa si raccolgono in media 400 confezioni di medicinali. Dall'anno scorso la Caritas Diocesana di Catania ha stipulato una convenzione con il Banco Farmaceutico. Oggi i volontari saranno presenti nelle farmacie Leone di Acicastello, Bua di Adrano, Scalisi di Biancavilla e Sesto di Acireale.